Sono dodici le opere esposte all'interno della sala mostre della Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso, opere accumulate dalla stessa nobile patina di malincolia, interpretazioni intense della pittura di paesaggio tipiche di Franco Polizzi. Un artista dei giorni nostri, già da anni inserita all'interno del gruppo di Scicli, è già ampiamente conosciuto a livello nazionale. A curare la personale, la critica e giornalista Elisa Mandarà. La mostra entra a far parte della rassegna e sursegno degli artisti, promossa da Archimet e dalla Fondazione degli Archi, che prevede la presenza di dodici artisti l'anno per dodici anni, chiamati a presentare ogni mese dodici opere. Franco Polizzi è l'artista numero 23, di 144, chiamati a disporre all'interno di questo ciclo. Nei suoi cadri si coglie lo stato contemplativo che ha perduto la necessità del fluire ordinato del movimento e del tempo. Le sue opere lasciano emergere il tratto distintivo dell'artista ciclitano, la felicità degli accordi cromatici dispiegati nella gamma azzurra e di quel tutto cielo che avvolge toni spenti, dei grigi, del rosso imploso, dei rosa sensibili della materia sensitiva. Tra le opere esposte troviamo pesca notturna, primavera in giallo, paesaggio di pioggia, mandorlo, vecchio mandorlo in fiore, estate, pioggia lontana, che sembrano esplosioni di un'intensità interiore che assegna agli elementi un'anima propria. E poi ancora presenti lavori come Senza Titolo, Natura, Melegrane Augurali, Primo Sole, opere in cui Polizzi amalgama un tono lirico, raro, con l'audace di un colore trasmutato e luminosità nella celebrazione magistrale della pittura di luce, così come spiega la stessa curatrice. La mostra, su segno degli artisti, Astag 23, fa parte di un progetto più ambizioso, della pubblicazione di un catalogo in cui verranno complessivamente presentate 1.728 opere d'arte prodotte da 144 artisti in 12 anni di esposizioni. La mostra è stata inaugurata lo scorso 26 marzo e resterà aperta fino al 22 aprile.